Prendi la macchina. 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 il meglio noi lo portiamo da segrate ma se non ti sbrighi amico scusa eh si scusa vai 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 il ceppo là l'hai fatto il carro armato? si vai vai che te lo faccio anche con la notte segrate vai facciamo il percorso in adesso vai 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 Grazie a tutti.